Devo esprimere un profondissimo apprezzamento per l'organizzazione, l'organizzazione intendo l'elettro, l'usia, il curato, tutto questo, per l'estrema discrezione che ha avuto nei vostri confronti, nel non dire fai questo, fai quello, fai quel lato, nel non presentare un copione. Beh, ci mancherebbe, ci avevano detto, dovete vivere come dovete vivere, come vivete già. Certo, certo, però io un po' mi aspettavo che, sempre chiaramente nell'interesse dell'azienda, potessi dire questo e quello, mentre invece, non che si arriva al grande fratello di fare tutta una finta dicendoti ogni giorno questo, questo, questo e quell'altro, o in quei programmi analoghi, ecco, qui, proprio una discrezione che è più grande non me la potevo immaginare, e questo ha consentito di camminare liberamente, tranquillamente e serenamente. Quindi questo, ecco, di questo ringrazio l'organizzazione.